E siamo live! Siamo tornati live! Sistevamo le luci che non si vede una fava! Allora, meglio così, più o meno. Oggi è un po' buio, come mai? Allora, vediamo intanto se si collega qualcuno. Nel frattempo, nel frattempo, facciamo le nostre classiche attività. Allora, vediamo se riesco intanto a vedere i commenti, che già sarebbe una buona cosa. Però è veramente buio oggi, come mai? Così è troppo. Vabbè, ce lo facciamo piacere. Allora, vediamo un po' se si vedono i commenti. Ciao intanto a chi si sta collegando. Ciao Dario. Funzioneranno i commenti? Boh, proviamo. Allora, nel frattempo che vi collegate, datemi un po' di tregua, che sistemo due cose al volo, come al solito. Il primo che mi dà conferma che si vede e si sente, mi fa una grandissima cortesia. Vedo che è un po' buio, però, boh, non lo so. Vediamo se la luce di questo computer è che dà problemi, no. Non lo so. Vabbè, pazienza. Datemi conferma che mi sentite e mi vedete, per favore. Che io intanto sistemo due cose al volo e poi iniziamo. Allora, devo mettere il link della diretta. Il link della diretta lo devo mettere qua. Quindi. Link per la diretta. Questo è così. Poi, 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 poi. Questo lo mettiamo, lo mettiamo, lo mettiamo qua. Condividi, condividi. A posto. Quindi questo lo abbiamo fatto. Bene. Bene. Ok. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Siamo tornati, finalmente, le dirette. Avete visto che ho lasciato tanto per qualche giorno. Ho pensato di organizzare questa diretta perché poi i prossimi giorni saranno abbastanza incasinati, per cui ci togliamo il dente subito e poi vi lascio ancora per qualche giorno. Datemi per favore conferma che si sente e che si vede. Oggi parliamo di una tematica che tra l'altro è emersa anche nell'ultima consulenza che ho fatto, per cui vediamo se riesco ad aiutare anche voi a capirci qualcosa. Perché c'è ancora tanta confusione nel capire quella che è la differenza fra paradigma e obiettivo. Per cui do ancora qualche istante, aspetto che si colleghi qualcun altro. Io non vedo i commenti e la cosa mi crea un po' di imbarazzo. Vabbè, pazienza. Vorrei dire che andremo senza commenti. Quindi datemi un attimo... Provate a scrivere, provate a darmi conferma se si sente e si vede, perché ho il computer completamente imballato e non riesco a capire se state commentando o meno. Quindi datemi un attimo conferma su questo aspetto. Allora, la diretta di oggi, come forse avrete visto dal titolo, vuole essere un po' provocatoria, perché chiaramente c'è questa prassi ormai di pensare che la riprogrammazione mentale praticamente consista nel ripetere a pappagallo una frase che nella maggior parte dei casi inizia con sono felice e grato, ora che si vede e si sente, ottimo. Ciao Stefano, grazie per la conferma. Ciao Dario, ciao Ferdinando, ciao Salvo, ottimo. Mi stanno arrivando tutti ora i commenti, ragazzi, quindi va bene così. Non so se avete scritto ora o se sono io in ritardo, ma fa niente. Quindi dicevo, oggi vorrei un attimo gestire questo dubbio che è emerso anche nell'ultima consulenza che ho fatto. Ciao Luca. Ossia, un po' questa prassi secondo la quale praticamente la riprogrammazione mentale intanto mi uscirà adesso la notifica della diretta. Boh, Facebook funziona veramente a cavolo. Ciao Paolo, ciao Antonio. Ok, quindi deduco che praticamente le notifiche sono arrivate adesso invece che 5 minuti fa, ma non vi preoccupate perché non vi siete persi niente perché stavo ancora cazzeggiando, per cui meglio così. Quindi collegatevi, collegatevi, condividete questa diretta così diamo un po' di informazioni. Oggi gratuitamente vi condivido queste informazioni delle quali tra l'altro ho parlato anche nell'ultima consulenza per cui condividete che ci sono informazioni su cose e preziose su come fare la riprogrammazione mentale. Allora, ricominciamo da capo visto che vi siete collegati tutti quanti adesso. Allora, oggi vorrei gestire, sperando una volta per tutte, un dubbio che vedo essere ancora molto presente. Ossia, c'è questa idea secondo la quale la riprogrammazione mentale consiste Ciao Ivan, sostanzialmente nel formulare una frase nella maggior parte dei casi inizia con Sono felice e grato ora che, perché chiaramente l'avete tutti quanti sentita da Bob Prottor per cui l'idea è che io inizio a fare il mio processo di riprogrammazione mentale creando questa frase, quindi Io sono felice e grato ora che guadagno 10.000 euro al mese ora che ho perso 15 kg, ora che ho fatto questo, ora che ho fatto quest'altro e dopodiché praticamente vi è stato detto che dovete ripetere a pappagallo questa frase praticamente lo sfinimento e nel frattempo, perché chiaramente siete multitasking fare anche la visualizzazione e vedrete che prima o poi facendo tutto questo vi riprogrammerete e raggiungerete il vostro obiettivo. Ora, questa è una grande castroneria io non smetterò mai di dirlo in realtà se avete fatto il corso gratuito sapete già, vi ho già spiegato che in realtà non funziona in questo modo la riprogrammazione mentale è qualcosa di diverso però io vorrei andare proprio alla radice di questo approccio per farvi capire un po' le corbellerie che ci stanno dietro questo approccio e vorrei partire proprio dall'affrontare il tema cioè la differenza più che altro che c'è tra il paradigma e l'obiettivo voi sapete che ormai da un mese a questa parte io continuo a fare dirette, continuo a fare contenuti e nella maggior parte dei casi ho cercato di spiegarvi che cosa fosse effettivamente un paradigma vi ho provato a spiegare qual è la relazione tra paradigma e abitudini quali sono le relazioni tra i paradigmi e le abitudini nella nostra mente però effettivamente non abbiamo mai toccato questo aspetto molto importante cioè la differenza tra paradigma e obiettivo per cui oggi vorrei affrontare questa tematica ora, qual è il tema? che praticamente quando voi, ciao Roberto quando voi iniziate a fare riprogrammazione mentale voi dite ok, io voglio raggiungere un obiettivo per cui nell'esempio di questa diretta parleremo di 10k ma chiaramente questo ragionamento vale per qualsiasi altro obiettivo voi possiate avere ciao Leonardo ora, obiettivo penso che in italiano sia chiaro che cosa significhi per cui non voglio veramente arrivare a dovervi spiegare che cosa significa obiettivo penso che sia chiaro per tutti quanti casomai la conclusione, la confusione può nasce nel momento in cui si pensa al concetto di paradigma che praticamente è diventato un mito, un drago misterioso di cui tutti quanti parlano anche oggi aprendo praticamente YouTube mi sono comparsi in un page video di paradigma di qui, paradigma di là per cui praticamente è diventata la seconda parola più diffusa in italiano dopo Mindset ma se volessimo dare una definizione che è quella che vi spiego che tra l'altro è l'unica definizione corretta che è quella che vi spiego nel corso gratuito il paradigma non è nient'altro che un modello cioè è un framework, uno schema, chiamatelo come volete ciao Gianluca attraverso il quale noi andiamo a descrivere una specifica realtà il concetto di paradigma nasce attraverso Thomas Kuhn negli anni 60 viene poi sviluppato e utilizzato non soltanto in ambito scientifico perché Kuhn si occupava principalmente di quello ma anche nel campo della psicologia per cui oggigiorno se voi aprite un dizionario qualunque esso sia andrete a trovare una definizione di paradigma che dal punto di vista del linguaggio in psicologia e in scienza significa un modello, un insieme come ci dice Bob Proctor di abitudini che noi utilizziamo per descrivere una certa realtà per cui in realtà se noi volessimo già fermarci al significato etimologico di queste due parole cioè obiettivo, ciao Walter e paradigma cioè già dovrebbe essere evidente che stiamo parlando di due cose diverse e io qui non voglio puntare il dito contro nessuno perché non mi interessa però ragazzi non mi potete dire che si tratta di semantica e di dettagli cioè qui è come se io chiamassi la me la pera cioè sono due cose diverse tra l'altro qui paradigma e obiettivo non sono neanche due concetti che rientro dentro un calderone che la frutta sono proprio due cose che non c'entrano niente per cui proviamo a capire una volta per tutte qual è il nesso tra questi due concetti ora, una delle opinioni più diffuse, sbagliate e lo sottolineo, sbagliate quando si fa riprogrammazione mentale è praticamente il equiparare il nostro obiettivo con il paradigma cioè il ragionamento che vi portano a fare è io ho un obiettivo per cui è come se devo impiantare questo obiettivo che però chiamo paradigma nel mio subconscio ora, intanto nel subconscio non si possono impiantare paradigmi perché tutt'al più possiamo impiantare le nostre abitudini che come avete scoperto nel corso gratuito sono di diverse categorie ma mettendo un attimo da parte questo concetto e facendo veramente finta con un grande sforzo di calma che noi impiantiamo questo concetto ragazzi, non è l'obiettivo non si può impiantare nel subconscio ma perché questo? perché per raggiungere un obiettivo come ad esempio i 10.000 euro al mese come spiegavo allo studente in consulenza non è che voi dovete avere l'abitudine di fare 10.000 euro al mese o quantomeno non soltanto questa cioè ci gira intorno tutta una serie di abitudini credenziali e personali che non potete sottovalutare ciao Fabio, a che cosa mi riferisco? una persona che guadena 10.000 euro al mese innanzitutto ha una serie di abitudini credenziali sui soldi ok? una serie di abitudini credenziali sui soldi poi avrà una serie di abitudini credenziali su come si fa il business su come si fa l'imprenditoria avrà una serie di abitudini personali sulla persona che pensa di essere su quello che è in grado di fare quindi c'è già soltanto così capite che ci sono più concetti da considerare e che non può tutto quanto concretizzarsi nel prendo un obiettivo lo traduco in un paradigma e me lo impianto perché non funziona in questo modo ragazzi non funziona in questo modo cioè è come se voi praticamente stesse provando a imparare a guidare la macchina semplicemente pensando che l'unica abitudine che vi dovete impiantare è l'abitudine comportamentale di guidare la macchina ma scusate ma quando voi imparate a guidare la macchina non vi fanno fare il corso non vi spiegano la teoria su come si guida quelli che sono i segnali stradali il come funzionano il come ci si comporta perché allora nonostante ci siano tantissimi esempi di vita vissuta di cose che avete dovuto imparare quando si tratta di obiettivi come ad esempio guadagnare soldi mi andate in confusione e completamente perdete il senno della logica e della razionalità cioè veramente non è un dettaglio questo c'è una cosa fondamentale fa tutta la differenza di questo mondo nel fare la riprogrammazione in modo corretto voi non potete pensare di guadagnare 10.000 euro al mese senza avere le giuste idee sui soldi senza avere le giuste idee sul business senza avere le giuste idee su voi stessi perché ancora una volta ne abbiamo parlato tante volte ma vale la pena ripeterlo ulteriormente se fosse soltanto questo il tema cioè l'abitudine di fare soldi cioè allora voi praticamente qualunque corso che vi insegni un business che avete comprato dovreste già fare 10.000 euro per forza cioè perché vuol dire self publishing amazon fba affiliazioni network marketing trading qualunque cosa si sono inventati che vi provano a spiegare con dei corsi online se bastasse semplicemente avere l'abitudine comportamentale che è quella che vi provano a impiantare quando vi dicono ripeti sono felice e grado che guadano 10.000 euro al mese allora saremmo tutti quanti già avremmo tutti quanti raggiunto questa cifra questo traguardo di 10k eppure non funzioni in questo modo ma perché non funzioni in questo modo? perché come continuo a ripetere per guadagnare una certa cifra non potete cioè voi dovete essere una persona a 360 gradi coerente con questa cifra coerente dal punto di vista del modo di pensare coerente dal punto di vista dei comportamenti coerente dal punto di vista di come affrontate le problematiche le opportunità che vi si palesano davanti cioè non potete pensare che la personalità di un uomo o di una donna si limiti possa essere modificata semplicemente andando a puntare su un singolo granellino e questo è il concetto che teorizza Maxwell Maltz in Psycho Cybernetics perché molte persone provano a fare la riprogrammazione provano a impiantarsi questa idea di guadagnare 10.000 euro al mese e non ci riescono ce lo spiega Maxwell Maltz all'inizio di Psycho Cybernetics quindi non è che dici è nel mezzo del libro e non l'ho visto non l'ho capito così eccola è proprio all'inizio del libro Maxwell Maltz ci dice che quando le persone provano a cambiare un singolo aspetto della loro personalità quindi il fatto di guadagnare più soldi il fatto di creare un certo business il fatto di perdere peso qualunque sia il vostro obiettivo voi che cosa fate? vi focalizzate anima e corpo sul raggiungimento di questo obiettivo ma il problema è che voi siete una persona a 360 gradi al 100% della vostra personalità e dovete capire che ci sono degli aspetti che magari anche se non sono chiari e non li vedete anche quelli devono cambiare per farvi essere una persona coerente con questo obiettivo cioè una persona che guadagna 10.000 euro al mese magari una persona che quando si palesa davanti un problema lo riesce a affrontare nel modo corretto una persona che guadagna 10.000 euro al mese non è una persona che pensa che ad esempio i soldi siano limitati o non è una persona che si mette paura a fare un investimento una persona che guadagna 10.000 euro al mese magari è abituato a delegare sa lavorare in gruppo cioè ci sono talmente tante abitudini di varia natura da considerare che è veramente osceno e al limite del ridicolo pensare che semplicemente costruendo una frase che ci dice sono felice e grato ora che guadagna 10.000 euro al mese che voi li possiate riprogrammare e cambiare quello che dovreste fare è ben differente però non tutti quelli che guadagna 10k hanno le stesse abitudini credenziali anche sul denaro sul business ecc in questo caso che fai scegli quelle più vicine a te e se non sai quali sono visto che non conosci nessuno da cui attingere ok adesso Gianluca rispondiamo anche a te fammi un attimo finire questo concetto così rispondo poi anche a te allora il punto di partenza è avere un obiettivo ok quindi non voglio entrare nel dettaglio di come si sceglie l'obiettivo di come dovete capire se l'obiettivo è corretto o meno perché è spiegato nel corso quindi se tutt'al più vi comprate immagini vincente lo scoprite però facciamo finta che avete capito che il vostro obiettivo è guadagnare 10.000 euro al mese ok ora a questo punto come vi ho già detto tante volte quello che dovete capire è se per raggiungere questo obiettivo che evidentemente in questo momento non è la vostra portata perché se no l'avreste già raggiunto è necessario che voi cambiate i vostri paradigmi e o la vostra immagine che cosa significa questo significa che mi devo assicurare che la realtà nella quale io penso di vivere dove per realtà intendo i paradigmi che utilizzo per descrivere varie sfaccettature quindi i soldi il business le relazioni e compagnia cantante mi devo assicurare innanzitutto che siano coerenti ciao Cristian con l'obiettivo che voglio raggiungere cioè se io voglio fare 10.000 euro al mese non posso vivere in un paradigma secondo il quale i soldi sono difficili da avere non posso vivere in un paradigma secondo il quale per avere successo devo fare il dipendente o per meglio dire se vivo in questo in questo paradigma poi non posso però pretendere di fare 10.000 euro facendo l'imprenditore perché capite che le due cose non sono coerenti quindi voi dovete assicurarvi che la realtà nella quale pensate di agire sia coerente con il vostro obiettivo dopodiché c'è un secondo tema che è ancora più importante voi vi vedete all'altezza di raggiungere questo obiettivo voi pensate di essere in grado di farlo o semplicemente vi state limitando a sperare che le cose vadano per il verso giusto e che in qualche modo l'obiettivo vi cada dal cielo questi sono i due i due concetti fondamentali che voi vi dovete assimilare e capire su quali o eventualmente se su entrambi dover lavorare per raggiungere il vostro obiettivo ma non sono la stessa cosa il vostro obiettivo non può essere il paradigma ciao Daniele rubinetto riaperto sì soltanto per oggi il vostro obiettivo non può essere il paradigma che vi impiantate così come il vostro obiettivo non può essere al 100% la persona che dovete diventare a questo punto che cosa succede Gianluca tocca chiaramente una tematica perché avendo acquistato al corso ha delle informazioni che chiaramente gratuitamente non ho condiviso il tema è capire che tipo di persona dovete essere sia per come vi vedete sia per come pensate sia per come credete che la realtà sia che deve essere coerente con questo obiettivo è ovvio che ci sono persone che guadagnano 10.000 euro al mese che agiscono in modo diverso si comportano in modo diverso la pensano in modo diverso e già soltanto queste differenze vi dovrebbero far pensare che quelle cazzate che vi dicono che ci sono le 15 abitudini i 15 modi di pensare di successo sono delle idiozie non esistono cioè tutte le persone non sono fatte con lo stampino per cui ciao Juan ciao Fede per cui penseranno in modo diverso e per questo motivo non è possibile tracciare il profilo di una persona che guadagna 10.000 euro al mese proprio perché ci sono delle differenze questo però non significa che noi non possiamo attingere a persone differenti a quelle che io chiamo dei modelli che ci permettono ciao Davide di capire quali sono i loro modi di comportarsi i loro modi di pensare quindi le loro abitudini che sono quelle che dobbiamo andare a creare e che dobbiamo andare a impiantare il nostro subconscio il modo in cui si fa questa cosa è ovviamente spiegato nel corso per cui non ve lo posso spiegare chiaramente qui in diretta live gratis però ragazzi il concetto è questo obiettivo analizzo la mia situazione per capire se devo cambiare paradigmi e ho la mia immagine e dopo di che paradigma immagine mindset cioè tutti questi concetti voi non dovete cadermi nell'errore di pensare che ci potete lavorare direttamente su di loro perché è come dire che io praticamente per cucinare la pizza cucino la pizza no ragazzi voi cucinate gli ingredienti che compongono la pizza cioè io veramente ragazzi su questa cosa dovete fare la massima attenzione perché se no non concludere mai niente voi dovete capire che state costruendo un qualcosa che è composto da elementi voi non lavorate sugli elementi e pensate che questo qualcosa cada dal cielo non funziona mai 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 aspettate un attimo che recupero un po' di domande perché se no poi le perdo allora io non sono ancora riuscito a vedere il corso gratis la tua home di kajabi non la ho trovata ce la pagio di sign up ma non riesco a signapparmi è un problema solo mio ok allora questo è praticamente il link per il corso e siamo a posto meno uno poi finalmente ti becco live grande one dovrebbe andare da qui infatti vi l'avevi già passato grazie perfetto ok quindi i commenti abbiamo recuperati per cui ragazzi occhio a questa tematica voi dovete capire da un punto di vista delle abitudini credenziali e personali che cosa avete bisogno cioè come diciamo costruire la vostra la vostra immagine con queste abitudini in modo tale che sia coerente con questo obiettivo voi dovete smetterla di pensare che siccome c'è l'obiettivo io mi impianto l'obiettivo nel mio subconscio non funziona in questo modo se ci volete provare liberi di farlo quindi non voglio non voglio punterito contro nessuno fate quello che volete io vi sto trasferendo quelle che sono state le mie esperienze nell'ambito della riprogrammazione mentale e come io la utilizzo giornalmente da due anni a questa parte per cambiare la mia vita ok quindi non mi interessa dire lui ha torto lui ha ragione vi sto dicendo quello che io ho imparato e quello che io ho applicato e l'errore grossolano da manida blu che vedo fare continuamente è il dire ok questo è il mio obiettivo allora adesso è diventato un paradigma e me lo impianto nel subconscio ma voi Bob Rotto l'avete sentito il paradigma è una moltitudine di abitudini una moltitudine di abitudini significa che sono diverse abitudini ragazzi l'italiano penso che sia chiaro per tutti moltitudine è un gruppo di abitudini quindi quando voi fate sono felice grado che guadano 10.000 euro al mese dove sono la moltitudine di abitudini che vi servono per cambiare il vostro paradigma e soprattutto su quale paradigma state lavorando perché 10.000 euro al mese non è un paradigma 10.000 euro al mese è un obiettivo il paradigma sul quale dovreste lavorare è il paradigma dei soldi il paradigma del business il paradigma dell'imprenditoria il paradigma del marketing a seconda di quella che è la vostra situazione però per favore ragionate sulle cose ragionate perché non vi potete limitare a prendere tre informazioni in croce e pensate di poter applicare in modo efficace il processo di riprogrammazione mentale perché non funziona in questo modo ciao Marco e ciao Marco tutti e due Marco due Marco al prezzo di uno quindi occhio a questi aspetti dopo di che dopo di che il modo in cui voi definite e di questo ne parlavo in consulenza l'altro giorno diciamo i tratti della vostra nuova immagine della vostra nuova immagine personale che chiaramente lo fate per renderla coerente con il vostro obiettivo ancora una volta non è che ve li posso dare io e dirvi ok 10.000 euro al mese per cui devi essere in questo modo perché le persone sono fatte in modo diverso per cui quello che potete fare è cercare il più possibile di attingere informazioni da persone che hanno già raggiunto il vostro obiettivo cercare il più possibile come vi dicevo qualche diretta fa quando ero in aeroporto a Dubai cercare di fare il più possibile delle esperienze che siano simili alla vita che volete avere alla persona che volete diventare perché è chiaro che in questo momento essendo una situazione distante da quella in cui vi trovate non avete le informazioni sotto mano per capire come dovete cambiare ed è questo il processo di riprogrammazione mentale è uno step by step per capire la persona che dovete diventare e poi iniziate a fare gli esercizi di riprogrammazione mentale non prima questa è proprio una follia assurda cioè è come se probabilmente volessi cucinare una pizza senza avere gli ingredienti ma che cosa faccio cosa faccio il metto in cucina accendo il forno e poi dove se non ho gli ingredienti che cosa faccio niente esserò lì ad aspettare che la pizza mi cade dal cielo quindi ragazzi occhi a questo aspetto perché è veramente fondamentale cioè veramente la riprogrammazione mentale e io qui non voglio parlarvi di tecnicismi o di cose strane però voi dovete capire una cosa che se volete fare riprogrammazione mentale i dettagli sono quello che fanno la differenza e non lo dico io lo dice Bob Proctor in qualunque seminario voi andate qualunque seminario di Bob Proctor ascoltate vi dice questo aspetto i dettagli fanno la differenza e io vorrei veramente avere qui sotto mano qualcuno che si è lanciato a fare questi esercizi di visualizzazione scrivendo sono felice e grado ora che guadiamo 10.000 euro al mese e li vorrei chiedere scusami ma tu esattamente cosa diavolo stai visualizzando come fai a visualizzare se hai scritto una frase me lo spieghi che cosa visualizzi e lo sapete che cosa visualizza perché io lo so già perché su questo ore ci sono già passato ciao Peppe ve lo dico io cosa visualizza io che sono nello yacht io che sono nella Ferrari io che sono nella villa Dubai io che sono nell'aereo in first o in business dove diavolo volete voi lo sapete cosa state facendo state facendo esattamente la stessa cazzata che vi hanno raccontato in The Secret cioè voi siete il bambino che nella sua cameretta sta iniziando a immaginare che a un certo punto avrà la bicicletta e pensate che aprendo la porta vi uscirà la bicicletta non funziona così non funziona così né la legge di attrazione né il processo di riprogrammazione mentale la visualizzazione e qui devo stare attento perché non posso dare troppe informazioni non serve per visualizzare per essere nostra damus cioè voi con la visualizzazione non dovete immaginare come sarà la vostra vita voi con la visualizzazione dovete lavorare sulla persona che volete diventare ma la persona che volete diventare non può essere soltanto una persona che compie azioni quindi io che guido la Ferrari o io che vado nello yacht cioè lo capite che una persona non ha soltanto comportamenti ma anche credenze su quello che è il mondo reale su quello che lui stesso pensa di essere cioè ci arrivate a capire questa cosa ok se la capite la visualizzazione non può essere soltanto io nella Ferrari tra l'altro altro tema che vorrei aprire mi spiegate come fate a ripetere tutto il giorno questa frase e nel frattempo a fare le visualizzazioni e essere emotivamente coinvolti cioè ma neanche se siete donne siete multitasking potete fare questa cosa eppure Bob Proctor vi dice che dovete fare la visualizzazione e dovete essere emotivamente coinvolti e siete tutti quanti lì sono felice e grato ora che guadagnano 10.000 euro al mese sono felice e grato ora che guadagnano 10.000 euro al mese e vi visualizzate in questa cazzo di Ferrari che tra l'altro vi vorrei dire se guadagnate 10.000 euro al mese ma come cazzo potete mai stare in Ferrari una volta potreste stare in Ferrari ma non avete soldi abbastanza per guidare la Ferrari per cui se non fate neanche se non ragionate neanche nelle scene che create e non hanno congruenza con quello che volete raggiungere state combinando proprio un mappazione di quelli mai visti mai visti ed è per questo che in Immagine Vincente che è il mio corso prima prima di prendere la penna e di iniziare a fare gli esercizi c'è una fase di ricerca e di informazioni voi dovete capire quello che dovete fare non lanciarvi all'arrembaggio perché se no non concluderete una fava un altro Marco abbiamo alla grande oggi è la live di Marco ciao Marco bisognerebbe fare almeno 100k al mese per la Ferrari sì oddio non lo so non lo so anche perché chiaramente non c'ho la Ferrari per cui non te lo posso dire in questo momento quanto servirebbe effettivamente per guadagnarla però e vi assicuro che è stata un'altra tematica che è uscita in consulenza l'altro giorno cioè il ragazzo facendo un minimo di ragionamento insieme a me si è reso conto che stava costruendo delle visualizzazioni che non aveva né capo né coda come cazpita fai a pensare che tu guadagni 10.000 euro al mese a Mirko scusa no no Mirko tu sei un'altra ancora comunque c'ho anche a te come fai a pensare a visualizzare che guadagni 10.000 euro al mese e poi contemporaneamente hai un conto in banca da 10 milioni come fai? cioè ragazzi non è un gioco non è un gioco e non è e non state veramente fantasticando cioè all'inizio la fantasia vi serve ma la dovete costruire in modo coerente in modo congruente deve filare quello che state facendo perché se no non funziona poi se mi volete ascoltare vi assicuro che vi farò recuperare un sacco di tempo perché ci ho sbattuto la testa contro il muro un sacco di volte se non mi volete ascoltare provateci voi stessi io guardo cioè veramente sfido lancio la sfida a chiunque che facendo questa cazzo di frase facendo le visualizzazioni così alla cavolo di cane raggiungeva l'obiettivo sfido pubblicamente chiunque ciao un esempio di abitudini che bloccano nell'apprendimento di una nuova lingua guarda Gio Pengo ne parlavo anche di questo in consulenza c'è una secondo me abitudine credenziale fondamentale che vi dovreste interiorizzare indipendentemente dall'obiettivo quindi indipendentemente se volete imparare una lingua se volete imparare a fare soldi se volete imparare qualunque altra cosa ossia che l'apprendimento è un processo ok che cosa significa che purtroppo abbiamo questo retaggio della scuola in base al quale l'apprendimento significa apro il libro incomincio a leggere memorizzo ripeto faccio l'esame prendo il voto ed è finito ho appreso no hai memorizzato sono due cose diverse l'apprendimento e questa è una definizione che c'è a Bob Proctor si ha nel momento in cui le informazioni con le quali io entro in contatto le interiorizzo a un punto tale che inizio a porre in essere delle azioni senza neanche rendermi conto di quello che sto facendo perché non c'è più uno sforzo conscio ed è quando pongo in essere queste azioni che raggiungo i risultati che effettivamente ho appreso per cui base più applicazione più ripetizione più risultato quasi giopengo esattamente devi costruire le basi perché se non hai le basi non puoi fare niente dopodiché devi applicare sulla base di queste basi e devi accettare che questo processo di apprendimento non è una cosa che avviene in un giorno la prima volta qualunque cosa noi proviamo a imparare sbaglierete e commetterete errori esattamente come quando avete acceso la macchina la prima volta avete girato la chiave e avete fatto spegnere la macchina la prima volta è successo questo quindi non è che siccome imparate l'inglese la prima volta sarete madrelingua così come la prima volta che lanciate un business non è che farete subito 100.000 euro quindi accettate che è necessario un percorso di ripetizioni dove la ripetizione non è ripetere la frase la ripetizione è applicare continuamente queste basi fino a quando non le padroneggiate ed è lì che allora le avrete interiorizzate ed è lì che riuscite a raggiungere il vostro risultato per cui se voi riuscite a capire veramente questo concetto a interiorizzarlo non ci sono più dei momenti di sconforto dei momenti di difficoltà dei momenti in cui ci sono dei problemi che non si possono superare perché consci di quello che vi ho appena descritto capirete che è semplicemente uno step in questo percorso che è giusto che ci sia perché sto imparando quindi non è che la prima volta come si dice sono nato scienziato e sapevo fare le cose mi devo dare il tempo di interiorizzare questi concetti se voi vi date questo tempo io vi assicuro che non c'è limite a qualunque cosa voi vogliate imparare non c'è limite però vi dovete dare il tempo questa cazzo di impazienza del risultato è un problema che c'hanno tutti quanti ce l'ho avuta anch'io quindi non è che sto dicendo di essere perfetto ce l'ho avuta anch'io la capisco perfettamente ma vi dovete dare il tempo non è che è la prima volta che fate una cosa raggiungete il top dei risultati perché sennò sarebbe tutto super veloce tutto super bellissimo non funziona così datevi il tempo di apprendere di applicare e poi vedrete che i risultati arriveranno però abbiate un attimo di pazienza lo dice pure Boprotto non dobbiamo essere impazienti ok quindi ragazzi occhio a questi aspetti perché sono molto importanti vi rimetto nuovamente il link per il corso gratuito sfruttate questa occasione sono 6 ore e mezza di contenuto sulla piattaforma di Kajabi non ve le da nessuno 6 ore e mezza gratis praticamente i corsi che vi vendono che durano che hanno la stessa durata ve li fanno pagare 1000 euro quando va bene questo è gratis quindi approfittatene iniziate a capire qualche concetto perché c'è veramente ci sono degli errori da matita blu che vedo commettere in giro che sono pazzeschi pazzeschi cioè gente che veramente pensa che siccome ha l'obiettivo di 10.000 euro al mese allora questo obiettivo è un paradigma che mi devo impiantare ma cazzo cioè paradigma vuol dire lo dice Boprotto è una moltitudine di abitudini ci dice che quello che si impianta nel subconscio sono delle idee che diventano abitudini e tu ti vuoi impiantare il paradigma sul tuo obiettivo per giunta quindi senza neanche capire la differenza è follia è veramente follia c'è un livello di dilettantismo che fa che mi crea veramente imbarazzo io non pensavo che era necessario veramente spiegare questi concetti ma evidentemente questa è la situazione però ragazzi cioè veramente costruitevi delle basi costruitevi delle fondamenta perché se no non potrete mai applicare in modo corretto cioè è veramente è folle è folle lo dice Bob Proto uguale e così e basta no Gianluca non è che siccome lo dice Bob Proto è così e basta detto che comunque sicuramente ha molta più esperienza sia del sottoscritto che di chiunque altro visto che praticamente è lo studente vivente che ha più anni di studio sul tema della riprogrammazione mentale ma in realtà quello che dice lui lo dice anche Maxwell Manns lo dice anche Dan Kennedy cioè voglio dire ma veramente ma vi invito voi stessi ma cercate su Google o dove diavolo volete voi la definizione di paradigma ciao Giuseppe cioè cercate voi stessi la definizione di paradigma e ditemi voi che cosa significa paradigma che tra l'altro non è un concetto che ha teorizzato Bob Proto lo ripeto il concetto di paradigma è stato teorizzato negli anni 60 da Thomas Kuhn in ambito scientifico tra l'altro per cui non c'entrava neanche niente inizialmente leggetevi il libro di Thomas Kuhn cercare di capirci qualcosa però cioè se non vi costruite delle basi è come se io praticamente volessi avviare un qualunque business come ad esempio il self publishing senza sapere senza avere un minimo di informazioni su come funziona su quello che si deve fare su cose giuste su cose sbagliate ma quante sono le possibilità che da novizio io possa lanciare un business come quello del self publishing e avere risultati zero tant'è vero che cosa fate? comprate i corsi comprate il corso sul self publishing comprate il corso sull'amazon fba perché siete conci del fatto che vi servono delle basi ecco la riprogrammazione mentale funziona allo stesso modo anzi vi dirò di più che probabilmente è un qualcosa di ancora più distante rispetto a un business che potete lanciare online perché magari di business ne avete già lanciati quindi se già persone che hanno esperienze nel business comprano comunque corsi per capirci qualcosa in più figuratevi sulla riprogrammazione mentale cioè figuratevi sulla riprogrammazione mentale per cui se non vi costruite le basi io non lo so che cosa materialmente si può fare ciao stai preparando un nuovo corso relativo a queste info che divulghi Luigi il corso in realtà è già disponibile si chiama immagine vincente e questa è la pagina di vendita il corso è disponibile in due versioni la versione silver che costa 999 euro e ti dà soltanto il blocco teorico dopodichè ciao Robby la versione gold che costa invece 2000 euro è il corso completo cioè hai 20 ore di contenuto che sono suddivise tra la versione teorica scusami tra il blocco teorico e il blocco pratico dove per blocco pratico si intende un programma di 90 giorni ed una serie di esercizi che sono quelli che io stesso da due anni a questa parte utilizzo e oltre al corso digitale nella versione gold ti arriva a casa il materiale cartaceo tra cui questo libro che dedica il wordbook che contiene gli esercizi che vanno svolti giornalmente per 90 giorni comunque all'interno della pagina che ti ho linkato trovi tutte quante le informazioni se vuoi puoi fare puoi comunque acquistare la silver e fare l'upgrade in un secondo momento a 1200 euro tra l'altro visto che mi è arrivata qualche richiesta ho ripreso a fare le consulenze ma sono esclusivamente disponibili per gli studenti di immagine vincente per cui ve lo dico perché è arrivata qualche domanda di tizi che vogliono fare la consulenza consulenza non se ne può fare se prima non comprate il corso ma per un semplice motivo perché è inutile farvi sprecare tempo soldi sia a voi che a me per fare una consulenza dove magari mi fate le domande le cui risposte le trovate già all'interno del corso piuttosto studiatevi il corso con calma e eventualmente in un secondo momento se c'è qualche cosa che voglio approfondire facciamo la consulenza cioè penso che abbia senso per tutti quanti quindi spero che sia chiaro il concetto la differenza tra obiettivo e paradigma io dopodiché per questa settimana questa sarà l'unica diretta che farò molto probabilmente anche perché è settimana intensa domani ci sta l'evento di Alessandro Arnao a Milano per cui se c'è qualcuno che partecipa ci vediamo lì dopodiché sarò Riccione per l'evento di Billuga per cui sicuramente qualcuno di voi lo incrocerò anche lì per cui siccome è una settimana bella densa direi che con le dirette ci fermiamo così per questa settimana se ci sono domande scrivetemi che vi rispondo più che volentieri intanto sorseggio un po' d'acqua dopodiché vi ricordo anche che per tutti i colori uguali magari mi vedono per la prima volta o la prima volta che parteciano a una diretta o magari hanno visto qualche sponsorizzata e vogliono capirci qualcosa di più fatevi il corso gratuito vi ho regalato letteralmente un corso da 1000 euro gratis lo trovate a questo benedetto link fatevi il corso con calma raccogliete un po' di informazioni capiteci qualcosa e poi ne riparliamo quanto tempo ci hai messo per ingranare con i libretti allora quanto tempo ci ho messo per ingranare con i libretti dunque io ho pubblicato i primi libri a luglio e fine agosto non mi ricordo se già ad agosto ma comunque a settembre ho fatto 5000 dollari quindi non tantissimo però sono andato giù pesante quindi era il mio terzo business quindi avevo la liquidità e avevo anche un po' diciamo di confidenza in me stesso per poter partire pesante e devo dire che tra l'altro sono rimasto su questa cifra e adesso sto scalando quando ci vediamo a Riccione quando c'è l'evento dal 21 al 23 ci vediamo dal 21 al 23 Dario anche se in realtà io arriverò un giorno prima arriverò il 20 e non so ancora se starò a Riccione o Rimini il 20 devo vedere un paio di cose però sicuramente ci vediamo ci vediamo l'evento ok allora ciao Jacopo ah un'altra informazione di servizio soprattutto per chi diciamo è nuovo a queste dirette nel momento in cui voi andate sulla pagina che vi ho linkato in precedenza quindi lasciate il vostro nome e la vostra mail non avete accesso immediato al corso questo perché dobbiamo attivarvi manualmente l'account su Kajabi quindi quando mettete i dati abbiate un attimo di pazienza perché non è che siamo tutto il giorno lì a controllare le mail quindi dateci un attimo di tempo vi attiveremo l'account manualmente vi arriveranno delle mail che vi danno i dati di accesso se non avete accesso a Kajabi vuol dire che non avete accesso al corso ok perché ogni tanto arrivano anche i mail non sono riusciti ad accedere al corso semplicemente perché non ti sono ancora arrivati dagli accesso per caso hai studiato anche il vecchio corso in inglese di Maxwell Maltz Zero Resistance Living e certo Leonardo ovviamente sì ovviamente sì e ho fatto anche Theater in Your Mind mi pare che si chiama o qualcosa del genere tra l'altro io vi invito caldamente a farvi il corso gratuito lo ripeto vi invito caldamente a farvi tutto il corso gratuito e chi mi vuole sentire vedrete che avrà qualche bella novità quindi mi limito a dirvi questo domande domande ce ne sono mamma mia mamma mia è mal di destra ragazzi oggi palestra come al solito vedete questo così vi racconto qualche evento qualche cosa qualche fatto di vita vissuta io esattamente il 3 gennaio 2018 pesavo 103 kg ed ero obeso e vi assicuro che ero talmente poco diciamo abituato a muovermi che praticamente quando uscivo dall'ufficio prendevo il taxi sia per andare a casa che per andare al ristorante perché non mi muovevo ok qual è l'effetto di cambiare la propria immagine che praticamente non soltanto ho perso 26 kg adesso ma praticamente tra le abitudini che sono riuscito a costruire ciao Fabio c'è anche quella di andare in palestra per cui questa è la mia terza settimana terza settimana che vado ogni giorno in palestra io continuo a non riuscire ad accedere al corso gratuito Christian ma devi andare su questa pagina e devi mettere il nome e il cognome e dopo di che ti attiveremo l'account 103 non è tantissimo Jacopo non lo so perché considera che io sono alto 1,65 quindi comunque ero abbastanza pienotto o come dice la mia ragazza ero obeso diciamoci la verità perché questo questo concetto è molto importante e dovete assimilarlo perché se volete iniziare un percorso voi dovete essere molto ma molto chiari su quella che è la vostra attuale situazione perché se non vi è chiaro il punto di partenza cioè voi non sapete mai da dove partite ed è difficile guardarsi allo specchio e ammettere ho questo problema ho questo difetto ho questo errore che commetto sbaglio qui sbaglio là ma questo è il punto di partenza ciao mi mandi il link per il corso gratuito Enrico te lo rimando anzi ti rispondo direttamente così magari ti arriva ciao Roberto che differenza aspetta che ho perso che differenza c'è tra auto immagine e auto stima allora intanto auto immagine sì penso che stai parlando della self image poi vabbè ognuno la vuole tradurre in un modo diverso quindi l'immagine di noi stessi l'immagine personale qualunque cosa essa sia la nostra immagine è un insieme di idee o per meglio dire un insieme di abitudini personali sulla persona che pensiamo di essere quindi io penso ciao Sonia quindi io penso Sonia mi hanno detto che c'è stato un problema con la spedizione spero che si sia risolto se ci sono problematiche scrivici mi raccomando quindi ciao Fabio la nostra immagine è un insieme di abitudini personali cioè un insieme di idee sulla persona che pensiamo di essere per cui il fatto che tu ti vedi non lo so generoso responsabile in grado di fare una certa azione in grado di guadagnare una certa cifra bravo in matematica scarso in italiano che pensi che sia facile imparare lingue o che pensi che non sia facile eccetera 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 l'autostima deriva dal modo in cui tu ti vedi per cui se tu pensi se tu ti vedi come una persona che è in grado di risolvere un problema o in grado di raggiungere un obiettivo o comunque ti vedi in maniera positiva l'autostima ti porta a come dire a vederti in maniera positiva e ti dà quello slancio che ti serve per risolvere il problema di turno che ti si palesa davanti adesso ho messo il cognome forse era per questo le altre volte avevo messo solo il nome dalla mia email comunque si capisce chi sono ok ottimo Cristian tra l'altro però non vedo la tua email vabbè Cristian comunque fai una cosa e questo vale per chiunque se non riuscite ad accedere al corso ufficio vmr verona milano roma consulting chiocci da gmail punto com mandate una mail e vi risolvo il problema Giuliano giusto mindset allora ragazzi non c'è il giusto mindset non c'è quello giusto e quello sbagliato o per meglio dire forse questa definizione te la posso far passare però occhio a non cadermi anche qui in questo errore che devo migliorare il mio mindset lo devo rendere migliore passo dal livello 5 al livello 6 al livello super saiyan il mindset per questo il mindset di là mindset ce ne sono solo due tipi c'è quello positivo e quello negativo poi se lo vuoi chiamare giusto e sbagliato va bene la cosa importante è che capiate che di mindset ce n'è soltanto uno non ce ne sono 19 che vada all'esse lunga e compa il mindset ma non puoi fare direttamente ma non puoi fare direttamente l'iscrizione al corso che tu hai da Kajabi è più semplice no Gianluca non si può cioè si può fare ma non la voglio fare perché così quando poi venderete un vostro corso avrete già questa informazione se faccio questa cosa mi si sputtano i dati del pixel perché siccome su Kajabi si può mettere un solo pixel poi facebook pensa che tutta la gente che sta entrando perché passa dal carrello sia tutta gente che compra in realtà è gente che sta accedendo al corso gratuito quindi si crea un mappazzone anche lì e si fa confusione come nella riprogrammazione mentale grazie prego ti scrivo nel caso probabilmente arriva che io non sono più qui vado anche io a Riccione ottimo Sonia a sabello te lo portavo va bene comunque in qualche modo lo gestiremo ok domande? domande? quindi se avete problemi di accedere al corso ufficio vmr consulting chiocce da gmail.com il link per il corso gratuito ve l'ho già mandato un paio di volte per cui è inutile che ve lo continui a rispammare quando siete pronti per fare il vostro passo quando siete pronti per abbandonare l'insoddisfazione e la frustrazione immagine vincente è il corso che vi consiglio anche perché è il mio per cui non vedo perché dovrei consigliarvi il corso di qualcun altro 999 la silver 2000 euro la gold se volete il pagamento rateizzato non c'è ma chiaramente potete comprare prima la versione silver e poi quando siete comodi fare l'upgrade pagando la differenza ciao Lorenzo ci vediamo tutti a Riccione allora ottimo ci vediamo tutti a Riccione ottimo tra l'altro se c'è qualcuno di Milano io domani sono all'evento di Alessandro quindi per chi è di Milano ci vediamo anche lì comunque senza entrare nei particolari sto guardando la seconda parte del corso vado piano perché ci sono tantissime info sì sì infatti io consiglio sempre di fare tre volte il corso ci sono un sacco di informazioni sono 20 ore di contenuto il che vi lascia capire come non sia possibile parlare della mente in quattro ore e interiorizzate e quando siete pronti applicate ve lo consiglio anche io anche se non è mio bravo Gianluca bravo Gianluca tra l'altro tutti coloro i quali hanno acquistato il corso se avete già ricevuto il materiale cartaceo lo dovreste già sapere ma se siete in attesa fatemi una testimonianza ragazzi fate un piccolo video dove raccontate quella che è la vostra esperienza con immagine vincente così queste informazioni le utilizziamo per aiutare tutti gli indecisi e tutte le persone che magari sono lì vorrebbero acquistare però il dubbio l'altro giorno mi ha scritto uno posso parlare con qualcuno dei tuoi studenti cosa faccio gli do il numero del tizio ci sarà anche un po' di privacy per cui se mi fate questa cortesia fate un po' di testimonianze un po' di video così facciamo anche capire a chi magari è in procedimento di acquistare le informazioni di valore che ci sono in immagine vincente vi farò la testimonianza quando sarò più in là con il percorso promesso ottimo Gianluca ottimo 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 quindi questo è quello che vi volevo raccontare oggi dopodiché torniamo a chiudere nuovamente i rubinetti delle informazioni anche perché c'è il corso gratuito cioè io se c'è una cosa che mi fa veramente incavolare oltre a sentire certe cose è quando ci sono le persone che si lamentano che vorrebbero cambiare la propria vita tu gli dai sul piatto d'argento una soluzione e cazzo non la utilizzano cioè io veramente l'altro giorno ho guardato i dati del corso gratuito o praticamente manco il 3% degli studenti lo hanno completato ragazzi voi mi fate impazzire cioè vi lamentate che non avete i soldi per comprare i corsi e poi dopodiché quando uno vi da un corso gratuito voi neanche ve lo studiate cioè ma allora veramente allora voi non volete cambiare voi non volete migliorare la vostra situazione vi volete lamentare c'è un corso gratuito di 6 ore e mezza studiatevelo ve l'ho fatto apposta per aiutarvi per farvi compiere un primo passo per capirci qualcosa e non lo studiate dai purtroppo è perché la gente non piace prendersi la responsabilità della propria vita questo è vero Oscar questo è verissimo è vero c'è tanta gente ne parlavo tra l'altro anche nell'intervista con Billuga di questo aspetto che è una grande verità che in realtà diceva lui ma io sono veramente molto d'accordo cioè ci sono praticamente le persone si dividono in tre categorie tutti quelli che non raggiungono risultati ci sono quelli che praticamente ti dicono bravo però non fa per me perché io mi dovrei dovrei lavorare dovrei fare questo e quest'altro no ma chi me lo fa fare io me ne sto nella mia zona di comfort e chi si è visto si è visto ci sono quelli che si lamentano soltanto della propria esistenza e poi ci sono quelli che sono per giunte invidiosi e ti inveiscono contro ecco io spero che nessuno di voi rientri in queste tre categorie spero vivamente che voi siete delle persone vincenti che prendono in mano la propria vita perché questo è un concetto molto importante che dovete capire siete voi i responsabili dei vostri risultati non c'entra la fortuna la crisi l'economia la concorrenza facebook il pixel quest e quello queste sono stronzate sono le giustificazioni che trovate per giustificare perché non raggiungete i vostri risultati siete voi i responsabili e i vostri risultati dipendono dalle vostre azioni per cui invece di cazzeggiare di giocare applicate imparate cercare di capirci qualcosa e dopodiché buonete questo tentativo stavo caduto ci sono ancora ottimo problemi di wifi dove siamo? purtroppo è bello ok Roberto scusami non avevo finito il messaggio che libri consiglieresti per il giusto mindset? allora Giuliano questa è una domanda che ricevo praticamente tutti i giorni pari allora premessa ciao Chiara io non sono un grande fan dei libri e penso che il libro non sia lo strumento migliore per studiare e per imparare detto questo se mi chiedi i libri che devi comprare e leggere almeno una volta ti dico Psycho Cybernetics di Maxwell Maltz ti dico Think and Grow Rich ma devi stare molto attento c'è una live dedicata perché non mi devi cadere nel classico errore di interpretazione e basta e basta perché non cerchi il più possibile di staccarti dai libri sai che cosa servono i libri? te lo dico io ad averceli sempre sott'occhio come per esempio io ho questo che ce l'ho sempre a vista perché ogni volta che ci pongo l'attenzione o che magari anche a livello inconscio non me ne accorgo e vedo che c'è questo con questo libro Psycho Cybernetics aggancio subito alla mia mente le informazioni che servono che sono quelle esposte nel libro però non è che è studiando il libro che riesce a interiorizzare questi concetti quindi cerchi il più possibile di studiare da corsi seminari video ascolti se mi ricordo se mi scordo se mi scordo ricordami a Riccione che ti risolvo la cosa di Gagiabi va bene ottimo ottimo va bene altre domande ci sono non so se mi sono perso qualcosa perché si è praticamente scollegato tutto in una volta Think and Grow Rich però la versione originale del 37 si trova anche in italiano sì 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 assolutamente sì sì anche se ragazzi io non sono un grande fan di Think and Grow Rich per cui Nightingale va ascoltato di notte lo dice la prova la stessa è vero sì The Stranger Secret è fantastico fantastico ok va bene penso di non essermi perso altri commenti quindi sono quasi le 8 adesso devo prepararmi la cena tra l'altro se vi vuoi visto che vi interessa sicuramente da quando sono ritornato a Milano e praticamente per le prossime 3-4 settimane sto andando avanti di NutriB quindi non cucino più anche perché mi scoccio però siccome non posso mangiare al ristorante perché se no la dieta va a farsi friggere mi vado a fare NutriB quindi questa è un'informazione che so era fondamentale per voi per cui vi ho dato anche queste informazioni di valore per cui oggi vi potete assolutamente considerare pienamente soddisfatti ricchi e pieni di informazioni di valore paradigma e mindset paradigma e obiettivo sono due cose diverse occhio a capire questo concetto il processo di riprogrammazione prevede prima l'identificazione dell'obiettivo puoi capire se bisogna lavorare sui paradigmi e o sulla vostra immagine e dopo dopo questi concetti potete applicare con gli esercizi non prima e non con la speranza che le cose funzionino ma con la consapevolezza di quello che diavolo state facendo quindi se volete questa consapevolezza c'è il corso gratuito cos'è NutriBee? NutriBee è un servizio fantastico sono quelli dei passi già pronti esatto praticamente ti consegni a casa cioè fai il test sul loro sito quindi il peso tutte quelle menate varie dopodiché ti calcolano le calorie che puoi consumare tu fai l'ordine e ti arriva per tutta la settimana il paccone con i piatti già pronti che devi mettere in microond e consumare mi sarebbe piaciuto avere il servizio che usavo a Dubai che è decisamente molto più buono soprattutto perché i piatti vengono consigliati ogni giorno quindi sono più freschi però questo pasta in convento e quindi questo ci prendiamo sono buoni i piatti di NutriBee? assolutamente sì NutriBee sono quelli che ti preparano i pasti con i macronutrienti precisi come li vuoi tu allora no perché in realtà con NutriBee praticamente loro ti calcolano il metabolismo basale e dopo di che tu puoi fare due cose o prendi cioè o accetti quello che ti mandano oppure fai tu l'ordine e quindi in quel caso con le tabelle nutrizionali che ti danno ti gestisci tu i piatti come vuoi l'unica cosa che devo dire infatti vengo sempre cazzio dalla mia ragazza per questo è che i piatti hanno un po' un po' di grammi di grasso in eccesso io dovrei stare su 50 grammi al giorno e faccio fatica anche perché chiaramente due piatti di NutriBee però poi non è che durante il giorno non mangio nient'altro quindi faccio la colazione mangio faccio lo spuntino di pomeriggio per cui è un po' un casotto stare dentro i 50 grammi di grasso ma questo è un problema mio perché ho diciamo ho delle esigenze di perdita di peso e quindi non posso assimilare troppo grassi però devo dire che sono soddisfatto anche per ogni volta che sto a Milano lo utilizzo però ragazzi il servizio che c'è a Dubai è un'altra cosa in ogni caso fatta questa parentesi il link per il corso di aiuto è questo se avete problemi di accedere ufficio vmrconsulti in chiocciolagmail.com se volete informazioni sul corso in vendita questa è la pagina di vendita dopodiché chi c'è a Milano all'evento di Alessandro Arnao ci vediamo lì chi c'è a Riccione ci vediamo lì se non ci siete in nessuno dei tuoi casi la prossima settimana almeno una diretta la faccio quindi va bene chiudo i rubinetti però ogni tanto qualcosa è giusto anche darla ti calcolano il fabbisogno energetico il metabolismo basale è solo una parte del fabbisogno energetico no mi sa che ti calcolano solo il metabolismo basale e infatti io c'ho tutto a volte è un casino fare l'ordine perché devo stare lì conta fai dici aggiungi togli sì non è non è proprio l'optimum però tra i servizi che ci sono a Milano è quello che mi è piaciuto di più per quanto riguarda la qualità dei pasti solo per questo va bene ragazzi ottimo buona cena a tutti visto che ci siamo mi raccomando fate il vostro gioco e al vostro successo ciao a tutti ciao a tutti